Facciamo sentire con un applauso? Ora vi presentiamo la narratrice Lucia Mangusi la regina Eleonora Klaff il re Francesco Sacco Bianca Neghe Giovanni Triumbari il principe Gabriel Sappia Corfido il cacciatore Giovanni Pace la guardia Nicola Lovallo Clara la serba del principe Carmen Pace ora presentiamo i più piccoli lo scoiattolo il primo uccellino il primo uccellino Iris Caivano la coccinella Donatella Santorza il cerbiatto Donato Ranaldi la formica Giuliana Telesca la formica Giuliana Telesca il colindetto Vittorio Corvo la prima fa spalla Aurora Rosa l'ancello e la seconda l'ancella e la seconda va spalla Siria Rosa e ora la partire la partire manutosa matrigna nonché l'insegnante di ballo Antonella Genovese ed ecco a voi le ballerine Maria Pia Pace Lendizia Carlucci Margherita Carlucci Marianna Telesca Carmen Santarsiero Ilegia Amati Valeria Amati Melissa Laguardia e Moemi Triumbari Io ho dimenticato un'altra ballerina chi è? Russo Giuliana Stiamo qui sul palco Vincenzo Ferrara Le coreografie di questa sera sono state ideate dai maestri della scuola di ballo ADS Dance & Sport Lucania Antonella Genovese e Bartolo Rosa Vi ringrazio per le scenografie e le accoggiature di flupo Margherita Ferrara Un enorme grazie all'Associazione Culturale e Ricreativa D'Ambito Maffine per i costumi nonché ai genitori dei bambini per la pazienza e la collaborazione Un ringraziamento va alla P.E.O. di Carmine Ferrara e a Renato Zattagnino Un doveroso ringraziamento ma al maestro Salvatore La Guardia per il testo che è stato riadattato per lo spettacolo da Vincenzo Fule Ferrara che ne ha curato la regia Grazie anche a CS Service di Gerardo Cammarota per il supporto luce e audio E ora non andate via perché la serata sarà chiusa dal cuore dell'Uni 3 che canderà anche due canzoni Passo un attimo la parola a Vincenzo Ferrara e fate un caloroso applauso a questi ragazzi e bambini grazie Che dire l'emozione è grandissima la lacrima come sempre scelte ma per la gioia di questi bravissimi ragazzi bambini che con tanto amore tanta pazienza hanno seguito questo laboratorio piatrale non mancando di una prova quindi meritano veramente un grossissimo applauso ringrazio nuovamente per la collaborazione per il ballo Antonella Genovese che veramente con tanto amore e tanta pazienza hanno seguito questi bambini e ragazzi nelle coreografie dei balli quindi un grandissimo applauso va anche a loro e non solo vorrei ringraziare io personalmente tutti i genitori per la pazienza ma la vera pazienza fino ad oggi che hanno avuto nel mandarmi questi ragazzi e questi bambini perché grazie a loro che amici per sempre continuo ad esistere quindi grazie veramente di cuore un ringraziamento va anche a che stato dietro quinte con noi Italo Zaccagnino e Francesco Genovete un ringraziamento lo faccio anche a Verusca Bonavoglia a Sandra Guglietti Angela Philadelphia che oggi sono stati con noi dietro quinte ma a tutti ripeto a tutti i genitori per la pazienza ringrazio ancora il coro degli uniti tre che è stato ospite questa sera e ringrazio tutti voi per essere stati qui spero che lo spettacolo sia risultato di vostro gradimento ringrazio anche Mimmo Candalupo per la diretta streaming online il comune di Aviviano dal sindaco dal vice sindaco al vice sindaco al sessore Vincenzo lo vanno bene e che dire grazie veramente non so che dire perché le lacrime stanno scendendo quindi grazie 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 ma non andate ma non andate via perché forse è questo il momento più bello questi ragazzi meritano un pensiero forse piccolo ma veramente fatto con il cuore non andate via che devo dare un piccolo ricordino a questi ragazzi e bambini che mi aiuta Margherita scenografa cantrice grazie 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 un applauso a Melissa La Guardia un applauso a Siria Rosa un applauso Aurora Rosa un applauso a Vittorio Corbo il più piccolo della compagnia un applauso un applauso donato da Nardi Giuliana Tedesca Noemi Nole Giuliana Giuliana Nole errore scusate scusate i genitori Donatella Santorsa Iris Caivano Ginevra Telesca Sveva Rosa Sveva Rosa Carmen Pace Nicola Lovallo Giovanni Pace Gabriele Gabriele Sabia Samy Trubari Francesco Sacco Eleonora Claps Eleonora Claps Lucia Mancusi Valeria Masi Carme Santarsiero Carme Santarsiero Mariana Telesca Margherita Carlucci Margherita Carlucci Letizia Carlucci Maria Pia Pace Noemi Trubari Noemi Trubari Maestri della scuola di ballo Antonella Genovese Bartolo Rosa Bartolo Rosa Grazie a tutti Vorrei ringraziare vorrei ringraziare anche Sandra Rosa per la presentazione Sandra Guglielmi scusatemi applauso grande il coro dell'Uni 3 può salire per gli ultimi due canti Grazie a tutti Grazie a tutti